In un antico monastero buddista, situato tra le maestose montagne di una terra lontana, viveva un giovane monaco di nome Kavi. Kavi era dotato di una profonda sete di conoscenza e desiderava ardentemente imparare tutto ciò che poteva dalle antiche scritture e dai saggi insegnamenti dei suoi maestri. Un giorno, mentre meditava nel tranquillo giardino del monastero, Kavi incontrò un anziano monaco che irradiava saggezza e calma interiore Il vecchio monaco, di nome Ananda, notò il desiderio ardente di Kavi di apprendere e decise di condividere con lui gli otto segreti per migliorare la memoria e la comprensione. Ananda iniziò a raccontare a Kavi la sua storia personale. Molto tempo prima, quando Ananda era un giovane monaco come Kavi, si sentiva spesso frustrato dalla sua incapacità di ricordare le sacre scritture e gli insegnamenti del Buddha. Decise quindi di intraprendere un viaggio per scoprire i segreti della memoria e della conoscenza. Gli otto segreti che il saggio svelò a Kavi furono i seguenti. 1. Pratica del mindfulness Ananda introdusse Kavi alla pratica del mindfulness, spiegando che consiste nel concentrarsi pienamente sul momento presente, senza permettere ai pensieri o alle preoccupazioni di distogliere l'attenzione. Questo stato di consapevolezza aumentata non solo favorisce la memorizzazione delle informazioni, ma contribuisce anche a ridurre lo stress e l'ansia, migliorando così la capacità cognitiva. 2. Visualizzazione creativa Il secondo segreto coinvolge la visualizzazione creativa. Ananda insegnò a Kavi a creare immagini vivide e coinvolgenti nella sua mente, associandole ai concetti che desiderava ricordare. Questo metodo di visualizzazione non solo rende le informazioni più memorabili, ma stimola anche l'immaginazione, rendendo il processo di apprendimento più divertente e coinvolgente. 3. Connessione emotiva Ananda spiegò a Kavi che le emozioni sono un potente strumento per consolidare la memoria. Invitò Kavi a associare le informazioni da memorizzare a sentimenti positivi o significativi. Questa connessione emotiva non solo rende i ricordi più saldi e duraturi, ma anche più accessibili durante il recupero delle informazioni. 4. Importanza della ripetizione Ananda sottolineò l'importanza della ripetizione nel quarto segreto. Incoraggiò Kavi a praticare costantemente ciò che stava imparando, ripetendo le informazioni più volte. Questo processo di ripetizione contribuisce a rafforzare le connessioni neurali nel cervello di Kavi, rendendo più facile il recupero delle informazioni quando necessario. 5. Coinvolgimento dei sensi Il quinto segreto riguardava l'uso dei sensi Ananda suggerì a Kavi di coinvolgere attivamente tutti i suoi sensi nell'apprendimento. Utilizzare la vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto per esplorare e comprendere le informazioni avrebbe creato ricordi più vividi e multisensoriali, facilitando così il processo di memorizzazione. 6. Narrazione Ananda insegnò a Kavi il potere della narrazione nel sesto segreto. Trasformare le informazioni in storie coinvolgenti e significative rende più facile ricordare concetti complessi. Le storie hanno il potere di catturare la nostra attenzione e l'interesse, trasformando il processo di apprendimento in un'esperienza più coinvolgente e memorabile. 7. Strutturazione delle informazioni Nel settimo segreto, Ananda mostrò a Kavi l'importanza della strutturazione delle informazioni. Organizzare le informazioni in modo logico e coerente crea schemi mentali che facilitano il recupero di memorie e ricordi. Questo approccio organizzativo ci aiuta a memorizzare e comprendere meglio le informazioni, migliorando così la nostra capacità di apprendimento. 8. Pratica costante e pazienza Infine, Ananda sottolineò l'importanza della pratica costante e della pazienza. Kavi doveva dedicare tempo e sforzo costanti per migliorare la memoria, senza aspettarsi risultati immediati. L'apprendimento richiedeva pazienza e perseveranza, e Kavi doveva essere gentile con se stesso durante questo processo di crescita e sviluppo personale. Questi otto segreti, quando combinati e applicati con impegno e disciplina, avrebbero portato Kavi verso una memoria potenziata e una mente più acuta, consentendogli di comprendere e ricordare con facilità le sacre scritture e gli insegnamenti del Buddha. Dopo aver appreso gli otto segreti dalla saggezza di Ananda, Kavi si impegnò a metterli in pratica nella sua vita quotidiana. Con dedizione e disciplina iniziò a notare miglioramenti significativi nella sua capacità di memorizzare e comprendere. Con il passare del tempo, Kavi divenne noto in tutto il monastero per la sua straordinaria memoria e profonda comprensione dei testi sacri. Grazie agli insegnamenti preziosi di Ananda e alla sua determinazione personale, Kavi aveva trasformato la sua mente in un santuario di conoscenza e saggezza. Ricorda che la pratica costante e la ricerca della saggezza sono essenziali per migliorare la nostra memoria e arricchire le nostre menti. Che gli otto segreti per migliorare la memoria tratti dalla saggezza buddista possano illuminare il tuo cammino verso una mente più chiara e una vita più significativa. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare il tuo prezioso mi piace e di condividerlo. Iscriviti a Dose Mentale per rimanere aggiornato su altri contenuti simili e che la tua mente sia sempre aperta verso la conoscenza e la crescita. Ci vediamo nel prossimo video.